Un tecnico specializzato è chiamato a dare assistenza a clienti che hanno acquistato dei macchinari per la produzione di bottiglie di vetro. Supportarli durante la prima installazione e calibrazione della macchina è fondamentale perché le bottiglie prodotte non presentino difetti, graffi, crepe, sbavature. Ma garantire a tutti assistenza immediata quando si ha un gran numero di clienti con sedi anche molto distanti fra loro richiede tempo e risorse. Utilizzando gli Smart Classes è possibile garantire assistenza remota immediata ad ogni cliente, ovunque si trovi e senza costi di trasferta. Con i4Task l'assistenza e il controllo qualità si effettuano in tempi rapidi a distanza. Si evitano i costi di trasferta per il primo sopralluogo o valutazione dell'intervento. Si seguono più clienti contemporaneamente anche se distanti fra loro. Si riducono i tempi di fermo macchina assicurando continuità alla produzione.